Si deciderà domenica in gara 3 il nome della squadra che farà compagnia a Castellano Udas Cerignola nel salto ai campionati nazionali. La serie della finale per un posto in DNC e in parità dopo la vittoria casalinga di Nuovalius Sansevero che ha superato Cessisti Caustuni per 64-52. Decisiva la maggiore freschezza dei padroni di casa con Bielic uomo in più con 19 punti e ben 16 rimbalzi. Intrigante la cornice di pubblico non solo per una buona rappresentanza ospite ma anche per la presenza dei sostenitori dell'Unipica Cerignola. Gemellati con i tifosi locali. Uno spettacolo simile ci sarà anche al Pallagentile di Ostuni domenica 8 giugno alle 19.30 per il più atteso appuntamento dei campionati regionali. In Serie D si salva Olimpia Rutigliano a scapito di Basket School Martina risolvendo la serie in due sole partite. Tiratissimo l'incontro di ritorno giocato in casa dei baresi e documentato nelle immagini. La squadra di coach Cazzorla prevale solo dopo un tempo supplementare per 84-76, andamento a strappi dopo un primo periodo in sostanziale equilibrio. Agresta scava a fil di serena il più 11 dell'intervallo lungo, ma Olimpia riduce il divario nella terza frazione e impatta nell'ultimo quarto. È respito dal ferro l'ultimo tentativo di Agresta prima di un tempo supplementare palpitante. Il primo a lungo è martinese ma la resistenza di Rutigliano è maggiore, anche grazie a Pavone. A mettere il turbo su 73 pari ci pensano Gallo e Gioiello, festeggia così l'Olimpia Rutigliano e anche la casa madre, vola New Basket 2012, neopromossa in DNB.